Bentornati e buon mercoledì, questo è un videomercato, un videomercato speciale, nel senso che è un video che riassume un po' le notizie che abbiamo letto ieri sera e quelle uscite questa mattina, ma soprattutto è un video del 5 di agosto. E che giorno è il 5 agosto? Non è un giorno come tutti gli altri, perché il 5 agosto è il giorno di una stagione in una serata. L'appuntamento è in diretta a partire dalle ore 19 questa sera, dove insieme ad ospiti e amici e soprattutto ai vostri messaggi in chat ripercorreremo insieme la stagione del Milan, la stagione 19-20 e daremo un'occhiata anche al Milan del futuro. Non mancate, perché è un appuntamento molto interessante, secondo me faremo un percorso attraverso dei punti, attraverso la storia di alcuni personaggi, attraverso delle partite che hanno segnato la stagione e con il commento degli ospiti che hanno gentilmente accettato di partecipare, che hanno accettato il mio invito e poi con i vostri messaggi in chat ai quali cercheremo di rispondere. Dalle 19 questa sera in descrizione vi metto già il link per poter accedere alla pagina della diretta e potete anche attivare se vi va la campanellina che vi avverte poco prima che inizi l'appuntamento. Veniamo allora alle questioni di giornata. Uno dei personaggi dei quali parleremo sicuramente questa sera è Marco Giampaolo, il nostro ex allenatore il quale sta rescindendo in queste ore il contratto con il Milan per poi firmarne uno da due anni, presumo con il Torino e quindi per noi è un risparmio dal punto di vista economico perché Giampaolo aveva ancora un anno di contratto ma soprattutto è un modo per salutarsi e augurare al mister buona vita e fortuna nella sua prossima esperienza, cose che non ha avuto al Milan per colpe sue indubbiamente, per colpa un po' di tutto quanto, diciamo che è stato un inizio di stagione piuttosto tribolato, ne parliamo questa sera. Quindi Giampaolo se ne va ma non è solo che se ne va, infatti questo video inizia con i saluti perché dopo aver salutato Marco Giampaolo salutiamo anche Jack Buonaventura. Oggi con un messaggio sui social, il numero 5, ormai ex numero 5 del Milan, saluta la squadra, saluta San Siro, saluta soprattutto i tifosi e ne abbiamo parlato ieri, insomma è stata una discussione molto viva da un punto di vista dialettico che ha diviso i tifosi tra quelli che vogliono o che avrebbero voluto che Jack rimanesse al Milan considerandolo una potenziale buona riserva e quelli che invece vedono il futuro con occhi diversi e quindi si aspettano il nome del sostituto. Chiaramente c'è da capire tante cose, Bonaventura avrebbe, a detta dei giornali, anche accettato di ridursi lo stipendio per rimanere e a proposito di rimanere c'è rimasto un po' male del fatto che a Milan non gli abbia fatto nessuna proposta, ma così è la vita, Bonaventura troverà sicuramente un'altra squadra dove giocare e probabilmente lo farà da titolare, cosa che al Milan non poteva più essere. Quindi salutiamo Jack Bonaventura, ma non solo, infatti uno dei due difensori, uno tra Musacchio e Duarte, stando ai quotidiani di oggi, saluterà il Milan. Per Musacchio la situazione è proprio fluida, nel senso che il difensore argentino ha diverse squadre in Spagna soprattutto che lo apprezzano e che vorrebbero acquistarlo, come ad esempio il Valencia e non so se l'infortunio che ha colpito il giocatore può frenare questa operazione, secondo me no, nel senso che lui sarà abile e arruolabile nel mese di ottobre, presumibilmente, per cui credo che non ci sarebbero grossi ostacoli da questo punto di vista. Per Duarte invece è un grosso mistero, come è stato un grosso mistero lui al Milan per via di infortuni e tante cose, ecco che è un mistero anche il fatto del suo futuro, staremo a vedere. In ogni caso sarà da fare la conta per quel che riguarda i centrali, perché noi avremo Chier, Romagnoli, Gabbia, per il quale continuano a esserci interessi per il prestito da parte di Parma e Crotone e eventualmente il nuovo acquisto che potrebbe essere Milenkovic o potrebbe essere qualcun altro che ancora non sappiamo, magari Fofanà, insomma uno di questi nomi qui, oppure potrebbe essere anche un nome che non è mai uscito, perché se una cosa sappiamo del mercato del Milan è che credo sia il più ermetico di tutte le squadre di Serie A, cioè del Milan non trapela nulla e infatti non ci sarebbe da stupirsi se dovesse uscire fuori all'improvviso un nome che nessuno ha fatto, ma noi naturalmente commentiamo le notizie che escono sui giornali, non ci si inventa niente perché noi non siamo stati azzurri di sci. Veniamo ai giocatori che vorrebbero venire al Milan, allora tra i giocatori che vorrebbero venire al Milan due nomi spiccano su tutti, il primo è quello di De Luffeu, il quale si propone attraverso i suoi agenti ai rossoneri, ma il Milan non credo che ci senta da quell'orecchio, nel senso che il giocatore che è retrocesso con il Watford adesso deve trovare ovviamente una sistemazione, a Milano ha sempre dichiarato di essersi trovato molto bene, ma credo che noi si stia cercando un profilo diverso da quella parte, il secondo nome invece che vorrebbe venire al Milan è quello di Sergio Rie, il difensore del Tottenham ha dato la sua disponibilità al trasferimento in rosso-nero, ma le notizie che sono uscite questa mattina sono notizie abbastanza curiose, perché sono di questo tenore, allora Rie, Milan è praticamente fatta, manca soltanto l'accordo economico che il Tottenham dica di sì, lo stipendio del giocatore, insomma mi sembrano tre elementi abbastanza fondamentali per il trasferimento di un giocatore, per cui credo che non siamo proprio così vicini come dicono i giornali, staremo a vedere, in ogni caso resta un nome nelle cronache, non lo so sinceramente se è veramente lui il nome del terzino destro che Milano vuole comprare, ma è probabile che ci siano delle difficoltà ad arrivare a quello che è il vero obiettivo di Paolo Maldini, cioè Emerson, il difensore per il quale oggi si parla anche di un interessamento del Paris Saint Germain, la valutazione che Barcellona fa di 30 milioni di euro, naturalmente una valutazione ritenuta troppo alta dal Milan, il quale vorrebbe cercare magari una soluzione in prestito, così come in prestito era andato il ragazzo al Betis dal Barcellona. Situazione di altri nomi, allora naturalmente sui giornali si fa il punto di mercato, i nomi sono gli stessi, si parla, nelle ultime ore abbiamo parlato di De Paul, abbiamo parlato di Pessina che potrebbe arrivare come riserva, potrebbe essere idealmente un sostituto o di Biglia o di Bonaventura, naturalmente da un punto di vista numerico, non da un punto di vista di posizione e poi c'è la questione di Luca Jovic, perché? Perché secondo quanto riporta la Spagna, dai medi e spagnoli, Jovic avrebbe ricevuto due offerte, una del Milan e una del Monaco. Adesso non lo so se il Monaco sarà, che sappiamo insomma essere una squadra piuttosto ricca, non sappiamo se sarà disponibile ad acquistare il giocatore, Real Madrid tendenzialmente vorrebbe darlo in prestito, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile e non lo so se onestamente con la conferma di Ibraimovic le cose potrebbero andare in questa direzione, cioè non so se il Milan ha intenzionato a rimanere ancora sulla pista Jovic dopo che ha deciso di confermare Zlatan Ibraimovic, perché Ibra sarà il titolare e credo che per quel ruolo, per il ruolo di alternativa di Ibra, è più facile che si vada a prendere un giocatore magari giovane da far crescere e anche e soprattutto meno oneroso da un punto di vista degli investimenti. A proposito di Ibraimovic, Ibraimovic è un po' la nostra Madame Bovary, sapete che Madame Bovary ha avuto delle avventure sentimentali per poi ad un certo punto rendersi conto che avrebbe probabilmente trovato la felicità a casa sua con suo marito e la prole e per Ibra è stata la stessa cosa, tanto girato che alla fine la nostra Emma Bovary è tornata al Milan, a differenza però di Emma Bovary che era giovane Ibra è vecchio, quindi Emma Bovary poi ha ripreso una strada diversa, invece Ibra qua rimane anzi dirò di più, Ibra qua rimane e potrebbe rimanere addirittura come dirigente, infatti ieri si è fatta notizia che ad Ibra potrebbe essere offerto un contratto un po' più basso rispetto a quello che chiede lui, però con la prospettiva poi a fine carriera di avere un ruolo dirigenziale, a proposito di ruolo dirigenziale andate a vedervi la storia su Instagram di Daniele Massaro di quest'oggi, è in compagnia di un signore che sicuramente riconoscerete e la questione di Ibra è una questione importante perché il futuro del Milan è Ibra centrico perché secondo i quotidiani si stanno cercando dei profili idonei a Ibra, questo scrive perlomeno la Gazzetta dello Sport di oggi, quindi il progetto che verrà è naturalmente un progetto che si fonda su dei pilastri dei quali abbiamo già parlato che sono Maldini, Pioni e Ibra Imovic, questo è il terzetto diciamo e poi mettiamoci anche Massaro, questi sono i quattro uomini che stanno costruendo il Milan e su Ibra naturalmente si farà affidamento per la prossima stagione, tra l'altro la questione Ibra è una questione particolare perché fino a un paio di settimane fa tutti ritenevamo che potesse andarsene o addirittura ritirarsi dal calcio, insomma le cose poi come vedete cambiano in maniera piuttosto veloce. Per quel che riguarda Ibra Imovic chiudiamo dicendo che la proposta di contratto è una proposta che ha detto della Gazzetta dello Sport è con euro bonus, cioè col fatto di avere una percentuale fissa più una variabile della quale abbiamo già parlato legata alla questione di qualificazione della prossima Champions League e poi in riferimento a Ibra si parla di Federico Chiesa, nel senso che i giornali strumentalizzano un pochino la permanenza di Zlatan in rosso nero e lo mettono come emblema della possibilità di attirare altri giocatori, quindi il fatto che ci sia Ibra Imovic potrebbe far pendere l'ago della bilancia nelle decisioni future ad altri ragazzi in favore del Milan e in questo senso si parla di Chiesa, per Chiesa si è parlato in redazione al suo rapporto con Pioli quando Pioli allenava la Fiorentina, adesso si parla in redazione al suo possibile addirittura rapporto con Zlatan Ibra Imovic, in ogni caso prima di Federico Chiesa che probabilmente interessa anche il Milan ma sappiamo che è una questione economica, le richieste della Fiorentina sono molto alte, non lo so se sono ancora i 70 milioni che commisso voleva ma anche fossero 40 o 45 sicuramente sono fuori dalla volontà attuale del Milan che deve investire in tanti settori per rinforzare la squadra. Queste sono le notizie di giornata, allora mi raccomando questa sera a partire dalle 19 ci vediamo qui su questo canale per la grande serata insieme, una stagione in una serata, non mancate, intanto like al video, iscrizione al canale, qua sotto vi lascio il link così potete attivare la campanella ed essere avvertiti quando stasera andremo in diretta a partire dalle 19, ci sentiamo stasera.